Nel 2019 i reati in provincia di Teramo hanno fatto registrare complessivamente una diminuzione del 4,92% rispetto all'anno precedente. Un dato positivo con alcuni punti dolenti, rappresentati dai furti in abitazione che nei territori di transito, come Sant'Egidio alla Vibrata, quasi triplicano dai morti sulle strade, che passano da 7 del 2018 a 10 nel 2019, e le denunce di violenza sessuale, che da 19 aumentano a 28 casi. La prefettura di Teramo è in prima linea sull'ordine e la sicurezza pubblica e annuncia un potenziamento di un piano di controllo integrato che vede operare insieme forze di polizia locali e comuni. Aumentano anche le violenze sessuali, l'abbiamo visto, nel 2019 il dato è aumentato e corrisponde anche purtroppo a un andamento di carattere nazionale. Noi per quanto riguarda, sapete che stiamo lavorando, anche per quanto riguarda abbiamo fatto la prima relazione semestrale sul protocollo antiviolenza, stiamo lavorando con l'università su alcuni dati statistici che possiamo riportare e incrementeremo sicuramente l'attività in questo settore, perché purtroppo il coordinamento è il fatto che tra gli enti ci sia una circolarità informativa assoluta e che non ci siano sfasature, questo è molto molto importante. Aumentano i morti sulle strade, purtroppo questo è dovuto a comportamenti scorretti, comportamenti scorretti che dobbiamo cambiare, non c'è niente da fare perché altrimenti le cattive abitudini si devono cambiare perché sembra tutto possibile, invece non lo è. La guida al volante esige una massima e costante attenzione.